Siamo con Federica Bevilacqua e Giorgia Quizzo della Fondazione Ronald McDonald che hanno supportato questa splendida iniziativa organizzata da Giuseppe Moschetta, il trofeo della Befana. È un momento di riposo per i ragazzi, possiamo dire che questa manifestazione e questo evento sta riuscendo nel migliore dei modi anche grazie alla vostra collaborazione determinante. Sì assolutamente, questa è la prima edizione, è il primo anno e da parte nostra siamo contentissime per come sta andando la giornata. Adesso siamo in pausa pranzo e i bimbi si stanno divertendo e in questa giornata di sport e di divertimento abbiamo trovato anche spazio e supporto dalle persone per la nostra fondazione che come ricordiamo si occupa di costruire delle strutture per ospitare le famiglie dei bimbi che sono costretti a stare in ospedale per lungo periodo e quindi al di là di queste iniziative della nostra fondazione siamo contenti che anche nel nostro territorio anche la comunità sociale è sempre pronta ad aiutarci, a sostenerci. Chiediamo anche una parere giustamente a Giorgia, insomma c'è stata un'invasione di bambini sia in questa struttura ma anche nel McDonald appena aperto lì in Via Isonso insomma tutta questa gente possiamo dire che è anche un bel lavoro da parte vostra riuscire a gestire e organizzarla. Certo come no, abbiamo comunque sia cercato di raggruppare tutti quanti insieme, anche di farli giocare, un momento di sbago comunque sia di stop e niente è un bel lavoro perché devi avere tanta attenzione, tanta pazienza più che altro però a fin dei conti sta andando abbastanza bene, siamo contenti.